Il riesame rigetta il ricorso presentato dalla difesa che chiedeva la scarcerazione e conferma l'arresto per il cinquantenne favarese accusato di aver maltrattato e violentato la figlia. Secondo la difesa c'erano delle lacune, delle contraddizioni nella versione accusatoria e per questo aveva deciso di presentare ricorso. Ricorso che è stato adesso rigettato dai giudici del tribunale confermando l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Agrigento Alfonso Malato su richiesta del PM Alessandra Russo. L'uomo venne arrestato dai carabinieri lo scorso 10 gennaio dopo la denuncia della figlia che aveva raccontato episodi raccapriccianti. La donna, dopo la separazione dal marito, era tornata a vivere dal padre insieme ai tre figli. In quel momento, secondo la ricostruzione degli inquirenti, che ha trovato un riscontro nell'ordinanza cautelare in carcere, sarebbe iniziato l'incubo fatto di violenze sessuali, percosse e umiliazioni. In una circostanza avrebbe subito un'aggressione con una pistola in mano. Il cinquantenne si era difeso rispondendo a tutte le domande del GIP, aveva anche detto di essere un padre esemplare. Intanto la procura ha aperto l'inchiesta a carico dei cognati, degli altri due figli e della moglie dell'uomo finito in carcere, accusati di false dichiarazioni al PM e favoreggiamento. Gli stessi, secondo gli inquirenti, per sviare l'inchiesta, avrebbero mentito quando furono chiamati a testimoniare. I cinque indagati sono stati convocati dai carabinieri per un interrogatorio e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.